Stai imparando? A proposito di limiti, pensavo a cosa ci vorrebbe per ottenere il massimo in un tuning radicale, e sto parlando di potenze estreme, amico. Semplice, un mucchio di soldi e un sacco di lavoro, ecco cosa. Voglio dire che il rischio è quello di adagiarsi. Non siamo arrivati fin qui solo per smettere di osare. Pensateci bene, la reputazione che ti fa avere i soldi per un'auto così, è una cosa che richiede dedizione. Scusa, amico. Ho rovinato tutto. Già. Quello non sta bene. Direi di no. Possiamo anche migliorare l'auto. Quattro, la Quattro, la Quattro, le perfetto ok mettiamo anche questo qua possiamo anche migliorare questo ok miglioriamo anche questo una bella sospensione ovviamente andiamo a migliorare i freni anche un nuovo freno a mano mettiamoci questo restini più scuri ovviamente una bella carrozzeria questa mettiamo questa assolutamente bello so che non hai parcheggiato quell'auto perché sei ancora in strada accedere porta qui le chiappe forza prima di tutto sto a sistemare la mia auto e poi sto arrivando non ti preoccupare ehi amico conosco dei tizi che si divertono solo con dei razzi come il tuo un club esclusivo capito se sei pronto e non molti lo sono puoi entrarci attento però fanno sul serio fammi sapere sono qua non ti preoccupare vuoi vedere come corre ora devo far vedere subito magari senza sbattere perché in questo modo mi supera per forza ho sbagliato io non ti preoccupare ti recupero subito non è giusto così però mi è chiuso chiudimi adesso dai porca puttana che cazzo ci fa lì cazzo ma dove sono usciti tutti questi non c'erano prima fanculo fanculo ma vaffanculo cazzo Emy pure tu ci metti vive contro mano cazzo addosso mi vieni porca troia ma che cazzo di gara è scusate non so capi un cazzo non so capi niente non so capi niente vabbè alla fine l'importante è che ho vinto niente male niente male ma non ti farò troppi complimenti altrimenti ti monti la testa devo scappare ma ci vediamo niente male niente male tu che mi vieni pure contro mano niente male il cazzo non so nemmeno come ho fatto a vincere ehi bello gli sbirri mi stanno rendendo la vita difficile sento un'ultima corsa e me ne torno a casa raggiungimi e diamoci dentro a presto certo certo sto arrivando non ti preoccupare e vai siete pronti vediamo ste derapate qua e speriamo che non ci sono auto contro mano pure qua oddio ci sono ci sono ecco qua già ho sbagliato pure per colpa delle auto che ho adesso ho paura di ste cazzo di auto di merda uh l'ho presa super stretta mamma mia che curve strette che prendo mi devo allargare di più ok ok tutti dietro tutti dietro cazzo 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 ok dovrei avere la posizione al sicuro adesso cazzo 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 Dai che abbiamo finito Dai Cazzo No Vabbè Ragazza vai alla grande Io invece Tu invece Tu invece cosa? Alla grande Io avrei vinto Vabbè Robin Sto arrivando Ciao Grazie a tutti.